Non è mio figlio. Questo è solo un corpo che nutro, lavo e vesto. Salve, dottor Wilson. Come sta, Steven? Come la settimana scorsa. L'ho perso il giorno che ho perso Richard in macchina. E il suo prossimo paziente la sta aspettando in ufficio. Sta sopportando molto dolore dopo la morte di sua madre. Lo trasferiranno a Boston. È davvero necessario? Può stare qui? È come se riavessi il mio bambino. Ciao, Mary. Ciao. Come sta andando? Tom! 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 Le autorità hanno dichiarato che il bambino non avrebbe potuto sopravvivere a temperature così basse. Mamma! Ho visto Tom. Ma tutti continuano a dire che sia morto. Sta succedendo qualcosa. Steven ha dei graffi sul viso. Ma ti rendi conto? Stai parlando di fantasmi. Non è solo nella mia testa. Posso provarlo? Devi credermi. È reale! Ciao! No! Grazie a tutti.